Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su investire.biz, io sono Riccardo Zago e in questo breve video andiamo ad approfondire un articolo che ho fatto sul cross euro NZD quindi parliamo di un'operazione di trading abbastanza semplice da replicare e ovviamente bisogna un attimo analizzarle e cercare di capire anche i motivi di questa presa di posizione in questo momento sto anche perdendo in effetti però ovviamente io opero molto sulle chiusure andiamo a vedere l'articolo e questo qui se volete poi andare a leggerlo, spunto operativo euro NZD 0207 2018 ho dato ovviamente, ho condiviso la mia operatività, approfondiremo poi il tutto questa sera al webinar del lunedì quindi se volete potete iscrivervi tramite questo link, ovviamente, evento gratuito per tutti andiamo però a vederlo questo euro NZD, guardate, allora, voglio farvi notare una cosa ovviamente guardate come qui ci trovavamo in un trend rialzista con massimi e minimi crescenti, palesemente crescenti poi qualcosa è cambiato e possiamo assolutamente confermare che dal 1 dicembre 2017 non c'è più stato un trend ben definito perché guardate, sia inizialmente è sceso ma poi, anzi, diciamolo che a partire dall'11 di gennaio da qui non sono stati più fatti massimi e minimi crescenti guardando questo grafico un po' da lontano su time frame giornaliero come appena detto ebbene, abbiamo quindi un trend laterale e come ogni trend laterale si può andare ad investire quando si raggiungono gli estremi di questa lateralità che cosa vuol dire? Che la parte alta è un estremo e la parte bassa è l'altro estremo di questo trend laterale in questo caso siamo proprio sulla parte alta in questo momento siamo a 1,7316 la parte bassa invece è 1,66 andiamo a zoomare un po' per capire anche cosa è successo e per capire con che esposizione possiamo entrare ovviamente valutandola tramite l'analisi di prezzo è vero sì che da 1,66 il prezzo è partito come un razzo al rialzo e in questi giorni comunque ci indica una forza abbastanza forza da parte dei compratori guardate quante candele verdi che ci sono e devo dire che è una situazione abbastanza interessante per questo io ho provato uno short da 1,7260 sto perdendo in questo momento siamo comunque su questa parte alta quindi ora si entrerebbe ancora meglio com'è che gestisco il tutto? anzi prima definiamo gli obiettivi il mio obiettivo è ritornare sulla parte bassa a 1,66 quindi un target molto molto ambizioso perché se prendiamo il nostro righello notiamo che siamo a 650 punti ovviamente non punto a prenderli tutti ma il mio obiettivo finale è quello poi se non ci arriva si chiude prima questa è la gestione la gestione è la cosa più importante in assoluto ma porsi subito degli obiettivi è sempre cosa buona da fare che dire? ora ci troviamo qui sui massimi è vero che c'è molta forza da parte dell'euro quindi quando abbiamo molta forza rappresentata anche dalle candele precedenti bisogna fare molta attenzione e magari diminuire l'esposizione perché andiamo incontro a un rischio più elevato andando incontro a un rischio più elevato quindi lo stop può essere preso prima in questo preciso caso come gestirò il tutto? allora il mio stop loss il primo stop loss è la chiusura di prezzo di sopra del livello qui di 1,72 e 95 vado a zoomare un po' quindi se oggi il prezzo chiude però perché vedete che ha già superato il livello ma non ha chiuso io voglio attendere la chiusura cioè la fine delle contrattazioni la chiusura delle contrattazioni ovviamente è definita dal time frame perché una candela può durare un mese, una settimana, un giorno, quattro ore, un'ora, eccetera, eccetera come ben sapete in questo caso siamo quindi sul time frame giornaliero attendo la chiusura giornaliera se chiude, quindi chiudo parte della posizione valuterò la chiusura in base alla chiusura valuterò quanto chiudere se due terzi o... vedremo, insomma, valuteremo e poi il rimanente lo lascio correre un po' e anch'esso sarà da valutare in base ai movimenti anche di domani ho messo comunque uno stop di sicurezza che non verrà preso almeno spero a parte che non succeda qualcosa di veramente eclatante ma è molto molto lontano ma l'ho messo perché comunque non si sa mai cosa possa succedere nel trading quindi intanto lo stop loss di sicurezza lì poi vedremo approfondiremo il tutto questa sera il webinar del lunedì quindi non perdetevelo e iscrivetevi come vi ho fatto vedere prima ditemi anche voi che cosa ne pensate qui al di sotto nei commenti e non ho per ora altro da aggiungere io vi ringrazio molto come sempre per l'ascolto e auguro una buona giornata e un buon trading a tutti